Talvolta nella progettazione di una componente non si prende nella dovuta considerazione cosa accade nella delicata fase di montaggio. Una fase particolarmente delicata nella realtà di cantiere che richiede opportuni accorgimenti. Nel caso dello scorrevole a centro parete dell'invisibile tutte le componenti predisposte sono state pensate in funzione della semplificazione del montaggio in cantiere, tenendo conto della natura dei cantieri edili. Uno degli elementi di maggior forza è sicuramente dato dalla presenza di distanziali di irrigidimento che vengono ancorati saldamente e resi solidali alla struttura che costituirà la simulazione di parete. I distanziali di irrigidimento sono più lunghi dell'intera struttura e vengono utilizzati come riferimento rispetto ai testimoni di intonaco, che naturalmente devono essere già stati predisposti. Infatti uno dei segreti per una perfetta posa sta proprio nell'attenzione verso i prerequisiti di cantiere. Testimoni di intonaco e piedi di livello sono elementi necessari per un'esecuzione a regola d'arte. È grazie a questi elementi che una delle funzioni dei distanziali viene espletata. La lunghezza dei distanziali che individuano rispetto alla struttura e il piano finito della superficie muraria consente di utilizzare i testimoni di intonaco con dei riferimenti solidali alla struttura stessa, permettendo una perfetta messa in opera, tanto rispetto al piano finito quanto rispetto alla messa a piombo dell'insieme. La composizione del secondo imballo consente di risolvere anche altri problemi, o meglio di prevenirli. Ad esempio, il binario non è integrato nella struttura e potrà in tal modo essere montato solo alla fine, dopo aver eseguito tutte le finiture e quando cioè il cantiere sarà più pulito, senza mettere a repentaglio i delicati meccanismi del binario stesso. La tasca all'interno, in assenza del pannello, si presenta come liscia, priva di asperità ed interstizi. Aspetto questo che certamente favorisce gli interventi di eventuale manutenzione o di semplice pulizia delle parti. Il binario, che verrà come detto posizionato solo a finiture eseguite, viene semplicemente agganciato ed avvitato. La posizione del binario, che governa la regolare posizione del pannello e il suo movimento, avviene mediante la regolazione combinata di due semplici viti esterne. E' da queste viti che è possibile definire la posizione del binario e quindi del pannello, tutte operazioni che è possibile effettuare mentre il pannello porta è già alloggiato ed agganciato al binario. E' quindi grazie alla natura delle diverse componenti, alla composizione dei diversi imballi, alla sequenza delle fasi di montaggio, che si evitano le irregolarità nella posa. Anche i tempi ed i costi relativi all'installazione a regola d'arte, o da prevedersi nel caso di manutenzione ordinaria o di semplice pulizia, vengono sensibilmente contenuti. E trattandosi di un insieme di componenti predisposte per essere semplicemente assemblate in cantiere, ma su cui sia possibile effettuare degli interventi di finitura, al pari di una qualsiasi superficie muraria, si evitano tutta una serie di vincoli progettuali e molti limiti estetici vengono superati, nell'aver concepito tutte le componenti come destinate alla realizzazione di una vera e propria simulazione parete.